Come procede con il congegno Protean? I ricercatori dell'Alleanza hanno avviato la costruzione. La squadra l'ha denominato Progetto Crucibolo. Stiamo inviando chiunque sappia usare un martello. Sarà il progetto più ambizioso dell'intera storia dell'umanità. Ce la faremo. Non ti nascondo che sarà una bella sfida, ma i ricercatori dicono che i progetti sono ingegnosi, di enormi proporzioni ma anche stranamente semplici. Possiamo farcela, Shepard. Puoi farcela, non dubitarne mai. No, signore. Bene, Hachet, chiudo. Grazie a tutti.